eccomi oggi amici vedremo insieme la maglia home di casa del manchester city per la stagione 22 23 in edizione player quella indossata dai calciatori prima maglia da casa puma manchester city 2022 23 è leggermente diversa dalle stagioni precedenti combina il tradizionale colore sky blue del manchester city con l'amaranto del colletto e sull'estremità delle maniche sia il colletto che i polsini delle maniche hanno uno stile simile con due enelli amaranto che circondano uno bianco i marchi puma ed etihad hanno un colore blu scuro piuttosto che abbinarsi ai vari dettagli da notare inoltre che il logo puma è posizionato al centro della maglia sotto lo sistema del city anch'esso centrale i dettagli amaranto sono chiaramente ispirati alla squadra di successo del manchester city e fine degli anni sessanta guidata da colin the king che è onorato con una grafica sul colletto interno veramente stupenda questa maglia nella mia classifica prende 4 stelle come già ho avuto modo di dire nella recensione della versione fan che trovate qua sopra è veramente una maglia che a me piace più di quella dell'anno scorso con questo contrasto che vedete di questo bordeaux bianco e azzurro veramente molto bene la maglia peraltro costa pochissimo vedete qua il costo e vi ricordo che in descrizione qui in basso trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia e anche dei link per ottenere dei coupon e per sostenere il canale quindi a quel punto la maglia diventa ancora più conveniente ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità ma prima di farlo vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player grazie a tutti Grazie.